Ciao a tutte e tutti e tutto, io sono Ludovica e faccio parte del Climate Social Camp di Torino che si terrà anche quest'anno in città dal 26 al 28 luglio e porterò anche io un po' le considerazioni che ci siamo fatti appunto in riferimento all'acqua ma in realtà anche il percorso che ci ha portato un po' a individuarla come la tematica, è un po' interessante anche questa cosa qui che effettivamente dà un po' tutte le parti d'Italia ma non solo, siamo un po' arrivati a parlarci di questa tematica come quella cruciale, quella di oggi, quella per cui bisogna un po' ritrovarsi, discuterne e affrontarla per capire come appunto veicolarla e come anche salvarla, salvarla in quanto bene comune e su questo penso che siamo tutti abbastanza d'accordo. Un po' il ragionamento che ci siamo fatti noi è che effettivamente come vediamo la crisi climatica a declinarsi nei nostri territori. Sicuramente l'anno scorso ma non solo l'anno scorso la siccità è stata insomma una prova tangibile di questa crisi climatica e ci ha permesso di instaurare sicuramente anche un modo di raccontare come la crisi climatica la vediamo sui nostri territori. La siccità ci permette di andare a comprendere anche attraverso un immaginario molto pratico come una crisi di questo tipo poi ci travolge, ci stravolge anche l'immaginario che siamo abituati a vedere nelle nostre città, nelle nostre campagne, nelle nostre montagne. La siccità è quella cosa che effettivamente quando esci di casa, noi a Torino abbiamo il Po e non vedi quell'acqua che eri abituato a vedere per anni da quando eri bambino allora la situazione diventa intangibile e questa tangibilità è un'arma che effettivamente può essere usata e quindi lascia aperto uno spiraglio nel momento in cui siamo di fronte a una crisi in cui sembra che effettivamente è anche difficile capire a cosa appigliarsi per fare un discorso che arrivi dato che effettivamente siamo travolti anche da una serie di insomma tutte queste appunto crisi legate, che sono molteplici legate allo stato attuale del clima, degli ecosistemi, insomma per parlare solo del lato ecologista ovviamente della medaglia perché poi sappiamo bene che i risvolti non si legano solo a questo. Abbiamo un po' analizzato quella che era anche la lettura che viene data della siccità quindi di questa emergenzialità con cui viene impostato questo discorso, un'emergenzialità che però, l'avevamo già visto anche col Covid, un'emergenzialità che in realtà ha poco di emergenziale nel senso che le cause, le conseguenze non sono improvvise ma anzi i campanelli d'allarme ci sono ed è proprio anche il fatto di non saper ricogliere che ci pone degli interrogativi e comunque ci insomma ci fa un po' vedere da che parte tiri la corrente diciamo. Quindi anche tutta questa descrizione che viene fatta anche attraverso i media, anche proprio a livello politico della sua gestione, manda un messaggio errato quindi di pensare che sia comunque una natura che da un momento all'altro stravolge le cose e incomincia ad esprimersi in questo modo in cui poi l'umano non sa come reagire e alla fine deve fare di tutto e quel di tutto che sta nell'emergenzialità è pericoloso e quindi questo regime perché quasi un regime di emergenzialità ci pone altre problematiche e altri interrogativi su come noi possiamo intervenire. Come camp un po' ci siamo anche chiesti chi è che la vive questa siccità? Ovviamente noi la viviamo nel nostro immaginario certo però poi alla fine cosa è che la viviamo nel nostro lavoro e quindi siamo un po' andati a interrogare chi appunto abita le montagne e quindi tutta una serie di rifugi perché quella problematica lì è già tangibile adesso ed è tangibile nel momento in cui l'acqua manca per banalmente la vita normale di tutti i giorni per fare una doccia e appunto da noi in Piemonte i rifugi sono comunque una di quegli ecosistemi economici che insomma comunque ancora molto presente nelle nostri valli così come poi tutta una serie di problematiche che si ripiegano e si ritrovano anche a livello agricolo quindi anche banalmente parlando con gli agricoltori ma questo lo sappiamo benissimo perché lo leggiamo anche su tutti i giornali poi chi è che ne sente la penuria sono effettivamente le persone che con l'acqua poi magari la devono andare a comprarla magari magari alle multinazionali perché non c'erano più dalla loro falda acquifera no? e quindi lì per lavorare per vivere viene a mancare e ecco anche in questi due casi qua un po' la volontà di risolvere questa problematica emergenziale sta in una logica di accaparramento in una logica di privatizzazione che si esprime ad esempio con i bancini facciamo l'esempio dei bancini perché secondo noi è molto tangibile molto visibile come immagine ti viene in mente di fare una buca nel terreno così da convergere tutta l'acqua che potrebbe essere distribuita ma anche proprio democraticamente no? a livello di territoriale in un punto solo cioè è una questione proprio fisica di accentramento delle risorse nel momento in cui nasce l'emergenza nel momento in cui quella cosa può essere scarsa la controparte non è che non sa cos'è qual è il trend futuro non sa che ci starà questo lo sa benissimo che c'è una problematica in corso e la previene anche la previene in questi metodi qua in queste tecnologie perché poi alla fine lo sappiamo bene anche il PNRR in questo si mostra abbastanza palese nella sua volontà di andare a sopperire a questa problematica della siccità della mancanza dell'acqua con un accaparramento, una privatizzazione o anche un donare un valore monetario perché comunque l'acqua si fa sempre più cara e qui mi riallaccio anche alla questione che non va a decadere solo nei territori extraurbani ma che diventa poi una problematica anche sociale nel momento in cui ad esempio io faccio l'esempio di Torino ovviamente ma insomma perché ci vivo gli sfratti per l'emorosità sulle bollette dell'acqua sono duplicati, triplicati insomma l'acqua pone un'unione di un discorso secondo noi che è drammatico da un certo punto di vista dall'altro ci dà l'opportunità di fare un ragionamento che si possa tenere insieme che possa effettivamente essere forte che effettivamente ci faccia riflettere verso che cosa stiamo andando quindi qual è anche la prospettiva di sviluppo che appunto di nuovo accompagnata con queste opere allucinanti finanziate dal PNRR fatte fretta e furia con distese colate di cemento vengono poi insomma a essere riproposte, proposte anche se sono palesemente contro qualsiasi interesse nostro l'interesse nostro che è quello di vivere bene le nostre città, le nostre campagne e le nostre montagne finisco qua poi grazie grazie